Occhi e giornali di oggi mercoledì 16 giugno 2021. Ben ritrovati cari telespettatori, siamo in diretta e allora iniziamo subito dai Santi, il santo del giorno, con il cartello che adesso ci propone la regia, Santi Quirico e Giulitta, il sole è sorto dal 5.23, tramontorale 25. Sta per arrivare il caldo africano con affa sempre più insistenti, giorno per giorno, apice dalla fine settimana. Questo è il grafico dell'Italia, la nostra regione sarà interessata allo stesso modo da questa ondata di caldo che soprattutto interesserà, con questi picchi massimi, soprattutto le zone interne, anche perché sulle coste ci sarà qualche grado in meno. L'afa infatti sarà accentuata su coste e Valpadana. Comunque, diciamo che nella nostra regione il caldo si farà sentire, certamente, ma sulla costa sarà un po' più respirabile l'aria. Ma adesso, prima di andare a vedere i giornali, facciamo un salto in spiaggia e andiamo a Marotta, dove ieri abbiamo conosciuto il nostro nuovo bagnino, il bagnino della settimana, ovvero Gianluca Guidi. Buongiorno Gianluca. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, com'è andata la giornata di ieri? C'è un po' di nuvolo oggi, un po' nuvoloso? Sì, una leggera foschia, ma durante la giornata andrà via e sarà una giornata stupenda come quella di ieri, una giornata bellissima. Anzi, oggi il mare, poi magari vi farò vedere, è stupendo, l'acqua cristallina, quindi si preannuncia una stupenda giornata. Calda, sfioreremo i 30 gradi, ma comunque una stupenda giornata. Risulta anche a voi che questo fine settimana sarà un caldo bollente, saranno giornate di caldo affoso? Sì, sì, le previsioni dicono che sarà un caldo affoso, con un tasso di umidità alto. La fortuna che qui a Marotta è sempre ventilato, quindi sulla costa si sentirà di meno per effetto delle brette di mare e di terra, quindi aspettiamo tanta gente, le condizioni saranno ottime. Se ti giro un attimo vediamo il mare allora, così chiudiamo questo... Guardate che... Eccolo qua, una tavola come si dice. È uno spettacolo, esatto. Il mare che è una tavola. Bene, grazie allora, buona giornata a te e a tutti i collaboratori. Intanto ieri a Fano, a proposito di caldo, a proposito di AFA, quando si parla di caldo in estate c'è anche sempre il problema, il pericolo degli incendi. E ieri a Bellocchi di Fano c'è stato, insomma, tanto da fare, perché a un certo punto è andato a fuoco un campo di grano molto grande. Campi in fiamme a Bellocchi, questo è il titolo della fotonotizia del Corriere Adriatico. Rogo vicino alla casa dell'assessore Aguzzi. Il titolo, invece, il Senato boccia africano. La Commissione Trasporti o l'aiuto di Lega e Forza Italia dice no alla nomina alla presidenza dell'autorità portuale. Nasce un caso politico. Era indicato dal Ministro Giovannini e da Acquaroli. Oggi alla Camera c'è l'altra votazione. Poi l'auto come scusa per tornare a casa e picchiare la ex da Pesero. Poi per i reati tributari del 2018 sequestrati 33 milioni di beni. E da Fano botta la moglie davanti ai figli, ma l'incubo è finito. Di ritorno dall'India 20 sacerdoti marchigiani. Un rientro complicato. Un gruppo composto da circa 20 sacerdoti. deve far ritorno nelle Marche dopo un periodo in missione nel Paese piegato dalla recrudescenza del Covid. Sotto Caritas senza tetto in fila per ricevere la prima dose. La maggior parte era al di sotto dei 50 anni. E si inaugura l'opera per gli eroi del Covid. Andiamo nella pagina del resto del Carlino. Sono già vaccinati due maturandi su tre. È il dato delle Marche. Nella nostra provincia sono 2843. E a giorni aprirà uno slot anche per i turisti in arrivo. Poi alla Maschenada Mas razzia di liquori. Saccheggiano al mare questi giovanissimi ladri sono ripresi dalle telecamere. Cioè questo fermo immagine che li ritrae mentre tranquillamente fanno razzia. E poi a centropagine invece sagre ed eventi. Ecco chi si salva. Il Covid ridisegna anche quest'anno il calendario dell'estate. Molti appuntamenti sono comunque stati rinviati. A Tavuglia invece il biodigestore non va proprio giù. L'incontro finisce tra urla e fischi. A Fano bocciata alle scuole medie. I genitori vanno dall'avvocato. Mentre nelle farmacie comunali pesaresi tampon tax abolita. Zero IVA sui prodotti intimi femminili. Mentre la Vissi incassa il primo sì. Fineco ancora sponsor. Mentre il basket Robinson e WL. Siamo già ai saluti. Le varianti 32 positivi dopo il primo vaccino. Vince quella inglese da marzo ad oggi riscontrati 1163 casi di mutazione che arriva dall'Inghilterra. Sono tre le persone con la sud africana che è più refrattaria alla profilassi. Dunque la variante indiana identificata come Delta sta correndo lungo lo stivale ma ad oggi nelle Marche non sono stati riscontrati dei casi. Una buona notizia anche se il fatto che la mutazione stia già circolando in Lazio e in Emilia Romagna fa restare alto il livello di guardia. Questa evoluzione del Covid originario si presenta come più diffusiva e più difficile da neutralizzare. Ciò la rende temibile. Ma vaccinando il maggior numero di persone possibile nel breve tempo, nel più breve tempo possibile potremo evitare un'ondata devastante come lo sono state le precedenti. Intanto sempre dal Corriere Adriatico delle Marche. turisti da vaccinare, le Marche pronte, le Marche già pronte. In settimana gli slot, la Regione, sta predisponendo gli ultimi dettagli per le somministrazioni. Salta Martin dice ci sarà uno scambio di dosi con i territori di provenienza. Mentre Rossi, della lista civici, Rossi consigliere regionale, dice necessario anche il visto per chi arriva dalla Russia. Volo per tornare dall'India. Il viaggio ad alta tensione di 20 sacerdoti marchigiani ha attivato un canale con la Farnesina per seguire il percorso anti-Covid. Mentre un duro confronto tra Carancini e Saltamartini, adesso dice basta, querelo l'assessore regionale, dopo gli attacchi del Dem. La cronaca, con la scusa di riprendere la sua auto, se ne torna a casa e picchia. L'ex moglie all'uomo, poi arrestato dalla polizia, era stato imposto il divieto di avvicinarsi alla donna. Mentre Atti osceni davanti ai bagnanti, sempre a Pesaro, è stato condannato dopo il rifiuto dell'elemosina, successo ai bagni Mario, nell'agosto del 2018. Poi Marco Truffi è tornato a casa, domani il funerale, era morto in Germania, nessuno però aveva avvisato la famiglia. Picchiava la moglie, siamo sulla pagina di Fano del Corriere, davanti ai figli, due anni e mezzo al marito orco, l'incubo dal 2017 tra piatti in faccia, reclusione in cantina e auto vietata, la paura dopo la separazione. Intanto la rigenerazione urbana a cura degli studenti del Polo 3, le pensiline prendono vita. Fanesità e tecnologia, con il codice QR, racconteranno la città dall'Isippo alla Moretta. Bellocchi, campi in fiamme, paura per la casa di Aguzzi, bruciati 30 ettari, l'assessore aggiornato mentre era in aula, fondamentali fossato ed erba. Un incendio divampato ieri mattina intorno alle 11.30, nelle campagne fra Bellocchi e Falcinetto di Fano, ha bruciato gran parte di un terreno coltivato al grano, ampio circa 30 ettari, arrivando a minacciare anche alcune abitazioni vicine. Tra queste appunto c'era anche quella dell'assessore regionale Stefano Guzzi, che risiede in zona, che è stato informato dell'incendio mentre si trovava in consiglio regionale. vigile al lavoro per circa quattro ore. Parcheggi blu, le auto spariscono da Sassonia, stalli a pagamento e multe hanno già provocato un cambio di abitudini. Dalla Valmetauro la cultura per decidere, se ripunta sul pensatoio, il sindaco con delega di settore presenta i primi interventi del nuovo gruppo. Poi uno schianto, abbatte il palo del semaforo, un impressionante schianto notturno sulla Flaminia a Lucrezia, all'incrocio per Cartoceto, dove un'auto che era diretta verso Fano ha centrato il palo del semaforo abbattendolo. Al volante c'era un 27enne di origini pugliesi che risiede in zona da tempo. Nell'urto ha riportato lesioni severe ed è stato portato al torrette di Ancona in codice rosso. Da Pesaro una pezza per i solchi post-fibra ed il Comune chiede il sopralluogo. I ciclisti lamentano buche trappole in via Colbe. L'azienda copre ma non basta. Dunque per mettere giù questo cavo, questo cavo di fibra ottica per internet in via Colbe, a Pesaro si è dovuto scavare. Quindi vedete da questa immagine l'immagine di questo tracciato che però è stato sì richiuso ma come spesso accade si formano dei dislivelli che poi diventano pericolosissimi soprattutto per chi va in bicicletta. Trovano una borsa invece questi due ragazzini Davide e Mattia protagonisti di un bel gesto e la restituiscono alla polizia. Hanno 11 e 12 anni ed è un esempio per tutti. È una piccola storia ma che in qualche modo apre il cuore. Mentre questa fotografia che vedete qua sotto sempre sul Corriere Adriatico di oggi testimonia, racconta di una frana la frana che c'è stata sulla falese del San Bartolo nessun ferito e niente danni ma ci sono stati comunque momenti di paura nel pomeriggio di ieri quando si è verificata questa frana sulla falese del Colle San Bartolo dei massi si sono staccati e sono precipitati in mare. È stato un diportista dare l'allarme segnalando il fatto alla capitaneria di Porto. Andiamo a Tavuglia doveva essere un incontro chiarificatore che in qualche modo spiegasse come veniva costruito questo biodigestore. in realtà poi è finito a urla urla e quant'altro frasi e anche pensieri insomma iniziati e mai finiti perché sovrastati dalle urla e da chi voleva intervenire. Il Corriere Adriatico biodigestore fischi e contestazioni un'occasione di confronto persa animi tesi a Padiglione per la presentazione del progetto di Green Factory dibattito ridotto praticamente al minimo e come dicevamo appunto doveva essere un incontro per fare chiarezza su questo progetto del biodigestore ma alla fine si sono sentite soltanto le urla mure o di gomma abbiamo dovuto urlare le associazioni il punto è l'impianto in sé e non l'aspetto architettonico. Urbania 100 mila euro dalla regione via l'amianto dalle strutture sanitarie stanziati 4 milioni e 700 mila euro per ospedali e distretti delle Marche a Marche Nord lavori per 37 mila euro mentre sotto da Urbino Jets sotto le stelle brilla il ritorno di Gualazzi Urbino plays in due fasi il 19-20 giugno poi dall'8 al 9 agosto ecco tutti gli artisti. Valcesano erano i ragazzi del muretto ora sono un unico mosaico il progetto conta due opere dedicate a Coach Mazzanti a Torre della Nazionale di Pallavolo Femminile e all'Olimpionica Morico San Lorenzo al via l'attesa stagione teatrale 5 storie diverse da domani alle 21 all'Abbazia Benedettina e con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito buona giornata a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti